è un imprinting forte, però possono anche essere imprinting poi successivi che si rimanifestano successivamente, fino a che età si possono generare degli imprinting, ma teoricamente tutti gli episodi che magari a suo tempo non sono imprinting possono poi diventarlo successivamente, man mano che passano gli anni, un qualcosa che mi è capitato a 20 anni, siccome mi è capitato a 20 anni è già una ripercussione di qualcosa che mi è capitato prima, ma poi quel stesso fatto può andare a fortificare altri eventi e può andare a manifestarsi nuovamente in un'età successiva, fino dopo i 40 anni, per cui la metà degli anni della nostra vita è un'età significativa, è come un velo che si scioglie e va piano piano a mettere in evidenza degli eventi che piano piano si rimanifestano e si rimanifestano come imprinting, quindi se ti è capitato qualcosa, adesso pensa agli anni che hai, se ti è capitato qualcosa che ti ricordi magari una delusione d'amore alla metà degli anni in cui hai, potrebbe ripresentarsi, perché diventa un imprinting e quindi va alla ricerca del suo personaggio fondamentalmente. detto questo, uno dei primi imprinting è quello sul rifiuto, perché l'imprinting sul rifiuto è il non essere accettati, una non accettazione, e non ci può essere uno senza l'altro, nel senso che se c'è, se tu non hai vissuto, poi l'abbandono puoi averlo vissuto successivamente, può diventare un imprinting, ma proprio l'imprinting primario del rifiuto è, come potremmo dire, l'imprinting del rifiuto può, se si manifesta l'imprinting del rifiuto a livello primario mi va a escludere l'imprinting dell'abbandono, perché l'imprinting dell'abbandono prevede che ci sia stata un'accettazione, quindi io devo essere accettato prima di poter essere abbandonato, perché altrimenti sono rifiutato, questo è fondamentale da tenere in considerazione, cioè una persona che vive un forte imprinting sul rifiuto potrà avere degli imprinting dell'abbandono, perché potrà avere gli anni successivi, ma non potrà mai avere un forte imprinting sull'abbandono, perché non potrà mai essere un imprinting vissuto nei primi tempi, nei primi anni della nostra vita, proprio perché per essere abbandonato devi prima essere stato accettato, quindi non devi aver avuto un imprinting sul rifiuto, se tu hai avuto un imprinting sul rifiuto vuol dire che non sei stato abbandonato, vuol dire che non puoi essere abbandonato, perché io non ti accetto, non è che ti abbandono, non ti voglio. Ecco quindi che iniziamo a vedere che questi due imprinting sono uno il contraltare dell'altro, normalmente. Normalmente quando si verifica uno non si verifica l'altro, quando si verifica l'altro non si verifica l'altro, normalmente o comunque diciamo così che se c'è un forte imprinting sul rifiuto ci potrebbe essere un imprinting sull'abbandono, ma molto più debole. Se c'è una forte accettazione invece, se non c'è imprinting sul rifiuto ci può essere un imprinting sull'abbandono molto molto più forte, perché diciamo che noi ovviamente possiamo vivere tutto, però poi conta quello che prevale rispetto all'altro, questo è un dato di fatto fondamentale. Quindi l'imprinting sul rifiuto ovviamente è primario, può essere primario rispetto a quello dell'abbandono, perché ripeto, per essere abbandonato devo essere stato accettato e nel momento in cui io vivo l'imprinting sul rifiuto significa che non lo vivo sull'abbandono, perché non posso vivere entrambe le cose, ovviamente. Non posso vivere entrambe le cose, perché se vivessi entrambe le cose,